In Bocconi sono dei cagasoldi che quindi pensano che tutto sia più bello Che lui è della Bocconi Oh merda! No dai che figura di me Tra il mezzo di sonno partiamo Studenti italiani, recentemente abbiamo pubblicato sul nostro profilo Instagram di University Network dei dati relativi alle università private italiane Siamo qui oggi per risolvere un dilemma che ha sempre tormentato gli studenti milanesi È vero che la Bocconi è migliore della cattolica? Per scoprirlo sottoporremo gli studenti di queste due università alla prova C-F-U C-Cultura generale, F-Frasi celebri e U-Università Per capire quanto veramente questi studenti sanno riguardo i loro atenei C'è questa sfida tra cattolica e Bocconi È vero che la Bocconi è meglio della cattolica? Paolo per me, qui si studia Poi ho amici in cattolica che dicono che non fanno niente Questa è una ottima domanda Non discriminiamo Però noi siamo un attimino... Della facoltà di economia Io credo fondamentalmente che la Bocconi sia migliore della cattolica Secondo voi è meglio la cattolica o la Bocconi? Cattolica? 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 Allora se devo rispondere in modo imparziale dire comunque la cattolica Ottime università però io sono la cattolica, mettiamola così E vediamo oggi se riuscite a portare in alto il nome della cattolica capitale dell'Australia Sydney Sydney Melbourne? Direi Sydney ma non è perché tra bocca è Nemmeno Melbourne aspetta che mi sta arrivando Oakland Canberra Canberra Dovete dimostrare appunto che la Bocconi sia realmente meglio Facciamo un po' di domande di cultura generale Vieni più vicino perché Capitale dell'Australia Dipende, ci sono varie capitali Sydney Ammazzo Intesa Ufficiale mi sa Brisbane Aspetta Tra Sydney e Melbourne è troppo scontato Andiamo nelle città giustamente non conosciute Melbourne Canberra Canberra L'Italia è un paese che fonda le sue radici nella letteratura Quindi una domanda Chi scrisse il mattino? Ungaretti Leopardi No, non Leopardi che cacchio dico No, no, non Pascoli 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 Quello che cacchio descriveva pure l'alcanica Aspetta, aspetta Io ho fatto lo scientifico Aspetta c'è Il mattino c'è Tecnico commerciale quindi Dai Joe Hai fatto il mio Brava, Parini Sì, Parini Parini Ungaretti Il numero dimenso Mi sapresti dire chi ha scritto il mattino? No Occhi disperati Pascoli Posso chiedere l'aiuto al pubblico? Può essere Leopardi Allora qua abbiamo Pascoli, Leopardi quindi quale accendiamo? Io dico Ungaretti Il tema del cambiamento climatico è un tema molto ricorrente ai tempi d'oggi Come si chiama la manifestazione ideata da Greta Thunberg? Fridays for Future Non è la più valida idea che ho capito qual è, ok ci sto riflettendo un attimo Ce l'hai sulla punta della lingua Su questo argomento sono veramente ignorante perché del climate change non mi sono interessato assolutamente Possiamo dire che alla Bocconi c'è l'onestà almeno Friday for Future Friday for Future Friday for Future No perché sono contro la manifestazione Sono contro anch'io Proclima Save the planet Non lo so Ehi Friday for Future Fatte non foste a vivere come bruti ma perseguire virtute e canoscenza Chi la scrisse? Nell'Odissea di Ulisse L'ho sentita ma non mi ricordo di chi si è L'avrà sentita in qualche serata Di Fortosandra l'avrà detta Ehi avrei detto Dante Inferno Esatto mettetevi d'accordo No vabbè va bene anche così Dante Inferno Ulisse Dante Bene Dante Dante Canto di Ulisse tra l'altro Mi offendi così Dante Chi disse la frase? Due cose sono infinite La stupilità umana e l'universo Ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi Einstein 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 Due cose sono infinite L'universo e la stupidità umana Riguardo l'ultima Riguardo l'universo Einstein Einstein Questo lo sapevo pure io Chi l'ha scritta? Non ne hai idea È disperata ragazzi Oddio Non saprei dirti sinceramente Stephen Hawking no Lazzardo un Machiavelli io Einstein Voi cosa studiate? Economia aziendale Cleam Management in italiano quindi giusto? Sì Quindi dovresti masticare un po' di economia Sì Ok Quindi sicuramente non potete non sapere la celebre frase L'economia politica occulta l'alienazione nell'essenza del lavoro Kant Keynes Marx Karl Marx Questo non l'ho mai sentito Marx E che facoltà fate? Io economia Anch'io economia L'economia politica occulta l'alienazione nell'essenza del lavoro Marx L'avete fatto apposta Lenino Come Giù di lì diciamo Marx 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 Delle date e delle informazioni riguardo la Bocconi Quando fu fondata l'università Bocconi Ma lei è della cattolica? Nel 1902 mi sembra Fine 800 1902 1902? Sì Ha avuto l'illuminazione divina ragazzi 1950 Io direi all'incirca 1880 Sapete quando è stata fondata la cattolica? 1920 Non tantissimo tempo fa 1921 Giuro di averlo letto l'altro giorno Dopo la seconda guerra mondiale No, no, no sto scherzando perché durante la seconda guerra mondiale tipo era già quindi prima della seconda guerra mondiale Ma ti direi anni 30 I dati Chi ha fondato la Bocconi? Ferdinando Luigi per Ferdinando che era il figlio morto Luigi Bocconi è il figlio del fondatore, è Ferdinando il fondatore Il padre di Ferdinando Bocconi, in suo nome, in suo onore Ferdinando Bocconi Chi è il fondatore dell'università? Chi è? Da chi? Padre gemelli Da padre gemelli Quanti studenti ci sono alla Bocconi all'incirca? 14.000 Non ne ho idea 15.000 14.000 Ogni tanto le conto Quanti studenti sommando tutte le sedi insomma? 30.000 Ti posso dire le tipe che stanno in cattolica? Sono gli 80.000 200.000 Io farei un 20.000 Un po' di più di 100.000 Ancora auguri Grazie mille Grazie Grazie mille Grazie, bocca al lupo Agli affonde Fumo, terapia è importante Ciao a tutti Sono Benedetta Studio in cattolica Iscrivetevi al canale dell'University Network Mettete mi piace Commentate e condividete